Un cordiale saluto di bentrovati ai telespettatori di Rete8, benvenuti alla rubrica Il fatto che oggi ci consentirà di fare una chiacchierata proprio per capire qual è il bilancio della stagione dell'ente manifestazioni pescaresi con il presidente dell'EMP che è Walter Meale al quale do il benvenuto qui nello studio di Rete8. Presidente, benvenuto qui da noi grazie per aver accettato l'invito a chiacchierare come dicevamo per tracciare un po' il bilancio di quella che è stata la stagione estiva che purtroppo ci lasciamo le spalle, lo dico purtroppo perché insomma sono grande amante della stagione estiva ma ahimè è finita ma ci sono già i progetti per il prosieguo quindi insomma parleremo di tutto questo. Intanto benvenuto a lei presidente, grazie Grazie, grazie dell'invito, sono veramente onorato di poter stare qui e appunto fare due chiacchiere per descrivere un po' quello che è stato fatto, quello che ancora si sta facendo e un po' quello che ci aspetta per il futuro. Devo dire che sono veramente tanto soddisfatto del lavoro che comunque è stato fatto in team, quando le cose funzionano, quando c'è collaborazione ovviamente i risultati poi si vedono, vengono da sé. Basta aggiungerci un po' di professionalità che penso che comunque nel tempo l'abbiamo acquisita e ripeto poi i risultati arrivano, i risultati non soltanto quantitativi ma anche qualitativi diciamo. Questo un po' per introdurre il quadro però diciamo che parlando di ente manifestazioni pescaresi immediatamente vengono alla mente, ed ecco che Francesco Berardinelli già ci sta mandando in onda delle immagini proprio a copertura di quanto fin qui diremo e approfondiremo nel corso di questa puntata di approfondimento del fatto, dicevamo parlando delle ente manifestazioni pescaresi vengono in mente tutte quelle belle date, quei bei, quei bei, gli appuntamenti insomma che le MP organizza proprio per animare la stagione estiva pescaresi e si spazia davvero in tantissimi ambiti, parliamo non solo di musica, parliamo di cinema, di teatro ma anche di arti circensi, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti, per una stagione che accompagna all'inizio dell'estate, il prosieguo insomma tutti i mesi estivi fino alla fine di agosto, ma non è finita qui perché poi vedremo che c'è anche un ultimo appuntamento che come ente manifestazioni pescaresi volete appunto riproporre, sottolineare proprio al pubblico quanti vorranno prenderne parte. Allora, ente manifestazioni pescaresi, stagione estiva, abbiamo sicuramente il Pescara Jets che è uno degli eventi più longevi di Pescara, parliamo della 51esima edizione, mi diceva Presidente che l'Umbria Jets invece è indietro di un anno rispetto a noi, poi abbiamo la stagione del teatro, anche il cinema sotto le stelle di cui parleremo e c'è Funambolica, la rassegna di arti circensi che quest'anno è giunta alla 17esima edizione. Per parlare di tutto questo cominciamo comunque da qualcosa e dal fatto appunto che sono manifestazioni che nel tempo hanno avuto un prosieguo, questo significa appunto che hanno avuto il favore del pubblico, il riscontro del pubblico negli anni, ma anche come diceva lei il fatto che lavorando in team con una serie di professioni e di professionalità si è riuscito ad ottenere poi i grandi risultati come nel caso delle varie stagioni che vi hanno consentito di andare avanti nel tempo. Sì, ha fatto una descrizione veramente completa, esaustiva, forse non devo aggiungere molto a quello che già è stato detto. Entriamo nel dettaglio perché c'è tanto da dire, io ho solo messo un po' di carne al fuoco. Ripeto, quest'anno diciamo che per quanto riguarda il Pescara Jets abbiamo anche iniziato prima rispetto al solito, perché noi iniziamo a luglio con gli autori, gli artisti italiani che debuttano o comunque che vengono collocati con una collaborazione con il Porto Turistico nell'arena del Porto Turistico. Invece abbiamo voluto quest'anno anticipare, facendo un po' la festa dell'estate, il 15 giugno lì da noi al teatro d'annunzio con gli avion travel, quindi abbiamo iniziato quest'anno anticipando la stagione, ripeto, che solitamente è di luglio. Poi quindi abbiamo avuto anche, come diceva lei, il Funambolica, cioè quindi questa manifestazione circense che ci invidiano veramente tutti quanti. Abbiamo avuto riconoscimenti a livello internazionale, grazie anche al nostro direttore artistico del Funambolica, il dottor Raffaele De Ritis, che con la sua veramente professionalità e lo studio, diciamo anche degli artisti che ci sono, va proprio alla ricerca dell'artista internazionale, tant'è che abbiamo avuto rappresentanze quest'anno veramente da tutto quanto il mondo. Addirittura abbiamo avuto anche ucraini e russi e questo è ovviamente anche questo è un vanto per la stessa manifestazione, la stessa festival, la stessa Funambolica, perché? Perché riesce ovviamente a gettare dei ponti e non dei muri anche in virtù di quello che purtroppo sta succedendo a livello internazionale. Quindi con Funambolica abbiamo avuto tre date, uno al porto turistico e le altre due al teatro d'annunzio, con la conclusione del Gran Galà che ormai sta avendo appunto questo successo internazionale, tant'è che vengono lì tutti quanti gli artisti riconosciuti a livello internazionale come tra virgolette campioni. Il Pescaraggez, che devo dire il Pescaraggez? Il Pescaraggez ovviamente è una tradizione, è il più longevo festival jazz in Italia, come diceva appunto, come aveva 53 anni sarebbero, ma per due anni purtroppo non si è fatto, per le questioni del terrorismo, quindi anni 70 abbiamo saltato due annualità. Quest'anno veramente abbiamo avuto degli artisti internazionali di grande spessore, i Manhattan Transfer che hanno concluso la loro carriera internazionale, faranno il loro ultimo concerto a marzo a New York e ovviamente hanno un'età abbastanza importante e quindi hanno chiuso con noi la stagione, la loro carriera internazionale di musicisti jazz. C'è stata una bellissima, i Getrotal, questo è l'ultimo concerto del 31 luglio con i Getrotal che anche lì ovviamente abbiamo avuto una chicca veramente di grande successo anche di pubblico. Come dicevo prima, il pubblico, a parte che è stato molto numeroso in tutte quante le rappresentazioni che abbiamo avuto quest'anno, ma anche qualitativamente ci ha complimentato per quanto riguarda sia la selezione, il cartellone che è stato fatto quest'anno veramente del Pescaraggez, ma anche poi la riuscita effettiva dell'organizzazione anche perché non dimentichiamo che comunque per avere un buon risultato oltre ai soggetti ci vuole anche una organizzazione alle spalle. Quindi su questo io voglio appunto ringraziare anche il direttore artistico del Pescaraggez e del teatro, il maestro Angelo Valori, ma anche tutto quanto il team, il mio CDA, cioè il vicepresidente Simone D'Angelo, ma tutti quanti i componenti del Consiglio di Amministrazione che veramente mi hanno sorretto nelle decisioni, nelle varie puntate del percorso che abbiamo fatto e quindi devo ringraziare anche questo. Ringrazio, qui apro una parentesi, di ringraziamenti anche l'amministrazione comunale che comunque c'è stata sempre molto vicina, vicina sia nelle scelte ma anche finanziariamente perché comunque devo dare atto che anche finanziariamente ci ha sopportato, anche perché ovviamente i costi sono elevati per poter organizzare un festival così importante e i finanziamenti pubblici a livello di ministero e di regione sono veramente un po' al palo, cioè nel senso che non si sono evoluti. Il settore della cultura è sempre stato un po' una ruota di scorta, purtroppo. Abbiamo sempre adottato ovviamente un prezzo diciamo quasi popolare, quindi non andiamo a guadagnare con il prezzo e il biglietto perché noi vogliamo appunto che la cittadinanza, il pubblico, anche i turisti perché quest'anno veramente sono venuti tanti turisti, possano godere senza un grande dispendio finanziario. E infatti anche perché Pescara poi vive di turismo nella stagione estiva, ci sono anche tanti bagnanti, avere la possibilità di un cartellone estivo con una grande offerta artistica, culturale, diventa un vanto anche per lo stesso comune. Presidente, questo è stato forse il primo anno vero, senza restrizioni Covid. L'anno scorso qualcosa ce lo siamo un po' trascinati anche dagli altri anni di pandemia, quest'anno è andata sicuramente meglio. Sì, assolutamente sì. Infatti io sono stato nominato nel 2021, a marzo 2021, in pieno Covid e lì ovviamente la situazione era abbastanza, diciamo, non dico grave, però dovevamo fare conti con tante situazioni di sicurezza soprattutto, in modo tale che comunque tutto il pubblico non avesse problemi nella diffusione del virus e quindi comunque ci siamo attenuti molto a tutte quante le regole che c'erano. E ovviamente anche il pubblico non poteva essere numeroso come invece lo è stato negli ultimi due anni. Anche l'anno scorso abbiamo comunque, nonostante ci fossero ancora qualche restrizione, comunque abbiamo avuto un assoluto risultato di pubblico. Quest'anno abbiamo veramente raggiunto il massimo e infatti proprio con la liberalizzazione chiamiamo così, degli ingressi e quindi senza nessuna costrizione siamo riusciti a fare veramente dei grandi numeri e un grande successo per tutta la manifestazione. Stavo dicendo degli altri, non so se vogliamo riprendere il discorso degli altri appuntamenti che abbiamo avuto, oltre a Pescaragessi abbiamo avuto anche il teatro, il teatro che è sempre stato un po' la maglia nera, diciamo delle tre manifestazioni che abbiamo, cioè del Funambolica e del Pescaragessi, ma anche quello siamo riusciti comunque a investire molto anche quest'anno sia con personaggi del cabaret, come abbiamo avuto diversi artisti nel cabaret, ma anche riprendendo un po', stiamo guardando adesso le immagini, riprendendo un po' anche il teatro classico, il teatro drammatico e quindi abbiamo voluto dare un risultato, un prodotto che potesse andare a spaziare a 360 gradi. Infine poi ad agosto abbiamo avuto anche il cinema sotto le stelle, che ormai è arrivata alla quarta edizione e con grandissima presenza di pubblico, anche un po' inaspettato, ma ho sentito proprio commenti da parte dei fruitori dello spettacolo che ormai erano abituati, cioè avevano questa voglia di venire a vedere appunto il cinema seduti sulle sedie e guardando anche le stelle con la pineta davanti e il mare alle loro spalle. Ovviamente è una location invidiabile che molti ci invidiano appunto perché avere questa collocazione fa sì che comunque abbiamo un valore aggiunto a qualsiasi cosa che noi riusciamo a fare a Pescara. Presidente Meale, noi abbiamo ancora poco tempo, io però volevo, almeno so che lei ci teneva a ricordare anche l'appuntamento del 10 settembre. Nell'ambito della quinta edizione del Festival D'Annunziano c'è un appuntamento importante, musica, insomma lo lascio dire a lei. Sì, si conclude anche questa quinta edizione del Festival D'Annunziano con un concerto di domenica 10 settembre al Teatro D'Annunzio del duo NEC e RENGA. L'organizzazione ce l'hanno affidata a noi, il Comune e la Regione. Spero che sia anche questo una serata di spettacolo puro dove tutti quanti gli avventori potranno godere, possiamo vedere alcune immagini, possano godere sia della location ma soprattutto degli artisti che sono stati selezionati e penso che sia comunque un concerto veramente importante, diciamo di spessore e che avrà un successo di pubblico, anche perché già stiamo vedendo le prevendite e penso che comunque ci sarà anche per quello un sold out, anzi approfitto per chi vuole partecipare ad affrettarsi, appunto a prenotarsi per poter partecipare e poter godere di questo spettacolo. Presidente, siamo veramente in chiusura, ci salutiamo con qualche anticipazione per il cartellone dell'anno prossimo, della stagione dell'ente manifestazione pescaresi, secondo le rassegne che fin qui abbiamo visto, quindi arti circensi, pescaraggezza, quindi funambolica, pescaraggezza, teatro e anche cinema sotto le stelle, qualche anticipazione brevemente proprio? Allora, anticipazioni ovviamente di nomi, no? Perché ovviamente è ancora presto, dobbiamo ancora vedere anche con il direttore artistico, i direttori artistici e soprattutto anche con il CDA, però possiamo dire che l'impalcatura comunque consolidata sarà sicuramente confermata anche l'anno prossimo, quindi con queste tre discipline e poi la quarta che si è aggiunta nel tempo, cioè quella del cinema sicuramente verranno confermate, ma penso che ci saranno anche delle novità che inizieremo a, tra virgolette, produrre proprio durante l'autunno o da ottobre in poi presso l'altra struttura che gestisce l'ente manifestazione pescaresi, cioè il Teatro Flaiano, l'Auditorium Flaiano, dove sarà un vero e proprio laboratorio artistico, quindi sia nel campo musicale ma anche nel campo proprio, diciamo, del teatro e quindi penso che ci saranno un po' di novità che non voglio svelarvi tutte quante adesso, ma sicuramente poi usciremo con dei comunicati stampo o comunque delle conferenze. Saremo attenti a seguirvi, quindi anche a poi vedere quale sarà il prosieguo anche della prossima stagione estiva dell'ente manifestazioni pescaresi, fin qui abbiamo tracciato un bilancio della stagione appunto 2023 che purtroppo va a concludersi, intanto si conclude anche il tempo a nostra disposizione, per cui io Presidente la ringrazio, grazie. Io ringrazio, ripeto di nuovo il vostro invito, è stata un'occasione per fare questa chiacchierata e per dire un po' quello che abbiamo fatto e quello che intendiamo fare nel proseguo. Grazie, grazie al Presidente dell'ente manifestazioni pescaresi, Walter Meale, grazie in regia Francesco Berardinelli e grazie naturalmente a voi telespettatori per aver scelto la nostra programmazione. L'augurio per tutti e di un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie.